Il riserva è stato un po' vertice a Palastro Tigi per la nota di aggiornamento al tempo. In vista della manovra lei è preoccupato? Come si aspetta da questo governo? Vediamo, vediamo perché per ora non abbiamo nessuna anticipazione, nessun elemento per poter dire se siamo preoccupati, soddisfatti, contenti o avviliti. Io mi vorrei augurare che finalmente questo governo metta al centro della sua azione i bisogni, i diritti, la lotta alle disuguaglianze, stare vicino ai territori, alle città, ai comuni del nostro paese laddove si possono dare tante risposte, ma se non si hanno strumenti normativi e risorse economiche diventa davvero difficile poterlo fare. Vediamo, per ora non abbiamo anticipazioni, leggeremo tra le righe quello che stanno provando da provare e faremo le nostre valutazioni come sempre.